Siamo con Luca Zaia, il governatore del Veneto. In primavera si andrà al rinnovo del Consiglio regionale. Lei ha parlato di turismo, di Olimpiadi, di sanità, eccellenze del Veneto, ma oltre a queste, perché votare Zaia? Perché oggi non abbiamo proprio deciso niente, che mi candido, che nulla, visto considerato che non sono qui a parlare delle regionali e dico anche, peraltro, che scioglierò anche questo enigma, se corre o non corre, quando a tempo debito. Non trovo corretto che siamo chiamati a governare il Veneto, si perda tempo ad andare a parlare di politica invece che parlare di operazioni da fare per il Veneto. Insomma, abbiamo aperto i dossier delle Olimpiadi, dei FAS, della Pedemontana Veneta, la sanità, l'ambiente e molto altro ancora. È bene che il Presidente della Regione si occupi di questo, non di campagne elettorali. Ecco, siamo qui a Sanstino, lei ha fatto un passaggio sulle problematiche del spostamento del casello. Ci può dire il suo pensiero a proposito di questo? Ma posso solo dire che stiamo seguendo questa vicenda che non dipende da noi e per cui si tratta di incastrare tutto questo rispetto a quello che sono decisioni, anche che competono ad altre realtà, non sicuramente da ragione. So che la Sessora De Berti ha fatto anche degli incontri, però adesso l'aggiornamento a questo momento non glielo so dire, so che gli incontri sono stati assolutamente con chi magari la pensa anche diversamente. Dopodiché non so dirle in questo momento quale sia lo sviluppo nelle ultime ore. Ecco, a Punti di Piavero io ho detto quando Presidente del Consiglio. Lei mi ha detto che si comprerà un cavallo. È sempre disposto a comprarsi il cavallo? Sì, sì, sempre alla ricerca. Grazie. Grazie.